Nei panni di ambasciatori e diplomatici, gli studenti delle scuole della Campania si confrontano sui temi dell'agenda politica internazionale. È la terza edizione del progetto formativo Italian Model United Nations, la più importante e partecipata simulazione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, organizzata in diverse città italiane. Abbiamo iniziato tre anni fa in Sordina con questo progetto che sembrava un po' rivoluzionario, difficile da fare a Tecchiri a Napoli, invece è stata una grande sorpresa perché gradualmente il numero dei ragazzi partecipanti è aumentato. Gli studenti coinvolti imparano le attività tipiche della diplomazia, tengono discorsi, preparano bozze di risoluzione, negoziano con alleati e avversari, tutto rigorosamente in lingua inglese. È proprio una simulazione di processi diplomatici internazionali che si svolgerà in inglese, si svolge con il supporto anche di AIMUNA che è l'ente di formazione accreditato presso le Nazioni Unite e questa terza edizione di Napoli è una grande conferma e soprattutto un grande successo. Il progetto ha una forte incidenza formativa in quanto i ragazzi trattano di storia, di geografia, imparano a conoscere le sedi dei paesi che altrimenti molte volte non conoscono nemmeno. Organizzato dall'associazione United Network con il patrocinio del comune, il progetto vede la partecipazione delle scuole medie e superiori del territorio e si svolge a Napoli, prima città del sud Italia, dal 18 al 20 dicembre. Di che cosa stiamo parlando? Di giornate dove si parla esclusivamente la lingua inglese e quindi c'è un laboratorio pratico, i ragazzi devono studiare le condizioni del paese rappresentato e soprattutto come è il ruolo degli ambasciatori impareranno concretamente a trovare le soluzioni e le mediazioni più opportune per risolvere conflitti. Insomma un'esperienza importante e soprattutto un'esperienza che aiuta a mettere insieme il rapporto dell'ascolto e della ricerca delle soluzioni come una delle condizioni fondamentali per risolvere i conflitti fra le persone e fra gli stati.